Siamo pregando i vespri assieme ai bambini. Sono ritornato a casa con i miei figli, come voi a casa con i vostri figli. Adesso anche i bambini vogliono dirvi perché li ho informati e anche perché già in Tanzania inizia il primo caso, che il Signore ci protegga. Preghiamo perché veramente è una cosa che sfugge alla nostra ragione. Bambini, cosa diciamo all'Italia? Ciao! Ciao! Italia? Italia! Noi? Noi! Preghiamo? Preghiamo! Per te! Per te! Coraggio! Coraggio! Ciao salemie! Ciao! Ecco, anche a voi vi auguro veramente di eseguire le norme, ma non dimenticate di pregare. Io consiglio, nel vicinato, affacciate ai balconi, scegliete un momento in cui potete pregare anche un Ave Maria e un Padre Nostro. Ho visto il Papa che andava a pregare in una chiesa e la preghiera è l'unica arma, forse un'arma forte che ci aiuta anche spiritualmente. Poi il resto lo farà chi può farlo per salvarci. Un grande abbraccio a tutti dalla Tanzania, della parrocchia Chitaneua. A tutti, ciao e coraggio! Grazie! Grazie!